Dopo oltre 40 giorni di mercato ufficiale il Pescara è ancora incompleto, come dice il presidente Sebastiani non bisogna avere fretta perché in questo contesto certo non mancano i calciatori, se questo è vero. E' altrettanto vero che a Colombo mancano delle pedine nello scacchiere titolare, in primis il play, anzi la doppia operazione conclusa due sere fa con l'Alessandria, con l'acquisizione a titolo definitivo del trequartista Aristidi Colai e la cessione in prezio del centrocampista Luca Lombardi, priva al momento il Pescara dell'unico regista di ruolo, per quanto molto giovane, con cui Colombo fin qui ha potuto lavorare, in attesa poi dell'inserimento di Erdis Craia. E allora ecco il DS Delicarri spingere di nuovo per Andrea Ghion, che sarà liberato dal suo attuale club, il Perugia, ma solo nei prossimi giorni. Farà ritorno alla società d'appartenenza, il Sassuolo, col quale sceglierà la proposta più allettante, tra le quali quella del Delfino. Sempre centrocampo frenata per l'arrivo di Salvatore Aloy, che non ha risolto i problemi economici con l'Avellino, la pista Aloy però potrebbe riprendere quota con il passare dei giorni e l'avvicinarsi al Gong, poiché il giocatore non rientra più nei piani del club Irpino e qualora non si trasferisse resterebbe da separato in casa. Difficile è un ritorno anche di Luca Palmiero in Biancazzurro nella stagione 19-20, su di lui c'è il forte pressing del Catanzaro. La squadra di Vivarini ha messo nel verino un altro potenziale rinforzo ed ex Biancazzurro, molto fresco, come Eugenio Dursi. E siamo dunque all'attacco, dove non basta l'innesto di Colai, che non è un bomber ma è un giocatore di grande tecnica e destrezza, e potrebbe recitare la sua parte in stagione. Oltre a Dursi, il Delfino continua a monitorare anche la situazione di Davide Merola, ex Foggia ma di proprietà dell'Empoli. In difesa i centrali sono cinque e qualcosa si farà solo in caso di uscita di Davide Veroli, che resta in stand-by dopo gli abboccamenti avuti con Roma, Benevento e Cagliari. Intanto lo stitamento dell'inizio del campionato, nuova data 4 settembre, e della Coppa Italia, rinviata data da destinarsi, doveva partire il 21 giugno, il Pescara ha rimodulato il quadro delle sue amichevoli. Dopo i due test pre-ferra agosto, il 13 ore 18 allo Stadio Colangelo di Penne contro la locale formazione e il 14 agosto, sempre alle 18, al Petruzzi di Città Sant'Angelo contro l'Angolana, sono state aggiunte altre due date. Il 21 agosto, amichevole a Lughetto di Febbo di Silvi, ore 17 contro il Rimini, il 28 agosto all'Adriatico Cornacchia, ore 18 contro la Vispesaro, sfida a due compagini che militeranno nel girone B, mentre i biancazzurri sono scivolati nel C.